Non siete maschi? Io perché mi ce parlo? Buonasera! Molto bene! Alessandro! Che serata sarà questa Ale? Che serata sarà questa? Buonasera! Bellissimo! Com'è stato rinunciare alla Presidenza e al passaggio a Fico? È stato stupendo! Grande discorso, grande Presidente! Prossime mosse per il Governo? Adesso vediamo! Tanto godiamoci il momento! Che festa è? No, niente, semplicemente un abbraccio! È stato un ottimo risultato, siamo contenti! Adesso festeggiate? Facciamo un attimo, insomma, un momento di contentezza ci vuole! E al Governo quando ci pensate? Ci conosciamo che se la giornata domani! Non rilascio dichiarazione, grazie! Grazie mille! Che serata sarà questa sera! Ciao, buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera a tutti! L'intesa funziona tra voi! Molore! Non c'è che la sta sera! Buonasera! Abbiate pazienza! Ma io veramente non sono minimamente tenuto a rispondervi da libero cittadino, per cui fatevi largo perché io voglio andare a casa! Grazie! Perché non sono proprio tenuto a dirvi nulla! E che ne pensa dell'intesa con la Lega del suo... Non sono tenuto a rispondere, sono un libero cittadino! Andate per l'estate parlamentare! Non mi va di rispondere! Ciao ragazzi! Fatemi passare! E abbiate rispetto! Grazie e arrivederci! Buonanotte a tutti! Buonanotte a tutti! Buonanotte a tutti! Ciao a tutti! Buonanotte a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ma Fico non si è presentato il festeggiato! Buonanotte a tutti! Buonanotte a tutti! Non si è presentato? Scusi! Scusi! Buonanotte a fare il governo però! E per forza! E beh! Chi lo fa? Fatemi per favore grazie! Festeggiato non si è presentato? Chi lo fa questo governo? Arrivederci!